Oh, questi giorni, come avrete visto, hanno fatto tutti quanti, giustamente, il video review sui nuovi controller, il DualSense per PS5, il pad dell'Xbox, tutti molto belli, tutti professionali, vi consiglio tra l'altro quello di EveryEye, che è il migliore personalmente, che è stato fatto, però ecco, molto, molto bravi, insomma, ci vuole anche qualcuno che spari di contro una marea di cazzate assurda, quello sarò io, che strano, eh! Beh, accanendomi invece sui dieci peggiori controller della storia, altro che fichi, guardate il DualSense, guardate questi che stanno per arrivare in questa top e prendete un sacchetto di carta. Alla numero dieci cominciamo con il controller del Nintendo 64. Ah, già vi sento, ah, Harry, ma ha fatto la storia! Sì, anche Hitler ha fatto la storia, l'unica cosa che gli concedo è che era abbastanza fico a vedersi, insomma, sembrava uno degli alienini di Space Invaders, poi tutto viola, davvero? Pareva venisse da Venere o Plutone, il che sarebbe stato anche sensato, visto che su Plutone loro, no, hanno ottomani o i tentacoli, e quindi riuscirebbero a premere i pulsanti al contempo muovere l'analogico, ma per un essere umano comune non era possibile! In più, io, sarà un ricordo di infanzia che tutto, no, ti sembra più grande perché te sei piccolo, ma quell'affare, quell'affare era minchia gigante! Ma la pena mi arrivavano le dita, la pulsantiera, insomma, era bello a vedersi, ma molesto ad usarsi, e la numero nove, il Remote Motion Nunciaku della Wii, fu la geniale invenzione della Nintendo, che sarà ricorrente in questa top, per far perdere i denti a grandi e piccini tirando certe mine assurde a chi ti stava accanto, un telecomando, che ci aveva creduto troppo, pareva, utile e giusto per la mini libreria di giochi che avevano la compatibilità, che comunque andava a farsi benedire perché la risposta era patetica, Wii Golf per beccarla la pallina sembravi un battitore di baseball con problemi di alcolismo visto dall'esterno, come arma impropria però funzionava da dio! Pronto lì, tu perdevi, e allora che partiva la manganellata in faccia all'avversario, al quale poi crollato a terra cavavi gli occhi con il pad del Nintendo 64, no, che la forma era anche perfetta, e poi lo finivi con il PlayStation Move, ma non perché glielo davi in testa, ma perché glielo facevi vedere, e questo bastava per far morire di infarto una persona, ah no? Aspetta perché un attimo gli avevi già cavato gli occhi col pad del 64, avvero mi contraddico, vabbè, tecnicismi. La sola presenza in una stanza, ecco, facciamo così di un PlayStation Move, poteva portare a morte prematura per scompenso cardiaco. Chi ha inventato questi cono gelato usciti da Blade Runner? Io non lo so, piaceva a tutti, tranne che a me ha sempre fatto molto cacare, scomodissimo, gli concedo che a livello di sensibilità e risposta era un'altra galassia rispetto alla Wii, ma è il design e il fatto che sia durato per due generazioni, quando sarebbe dovuto morire con la PS3, è storicamente inaccettabile. E alla numero 7, il Coleco Vision Controller, Coleco console sul mercato dall'82 all'84, quando per fortuna la gente iniziò a pensare, caspita, certo che siamo negli anni 80 e fa tutto schifo, perché ancora devono passare molti anni prima di vedere il vero progresso del DualShock dopo che avranno inventato la Play, però certo, sto controller fa schifo anche per essere negli anni 90, ma che voglio essere nel futuro! Avete presente quando nei film dell'epoca rispondono al cellulare, tirando fuori quei cannoni di 7 chili con l'antenna lunga un metro, ecco il controller Coleco era il cugino sfigato, con sti pulsantoni che oggi non ritrovi ma manco sui cellulari quelli no per ultra novantenni a cui mancano 11 decimi per occhio, un abominio incommentabile, un arnese del maligno e alla numero 6, il controller del Sega Dreamcast. La Sega che, come sapete, produceva tavoli da salotto e cucina come questo, vedete, spazioso, adatto per pranzi in famiglia, con più persone, non era un tavolo ma un controller, oh, fatto storia anche questo per via delle grandi innovazioni sulla Dreamcast a livello di entrate per memory card, più per controller, il futuro per l'epoca, ma ecco, design rivedibile, guardate le proporzioni tra corpo, pulsanti, il D-pad tutto spostato, il filo che esce da sotto, così ti ci intruppavi le mani mentre giocavi, ma cosa sto dicendo? Non potevi perché dovevi avere le mani di Shaquille O'Neal per poterlo impugnare, il Frankenstein dei controller faceva pene, era un mostro, andava distrutto ma non per rabbia, per liberarlo dalle sue pene, il Sega Nightmare Cast Controller è la numero 5, l'Atari 5200 Trackball Controller, già il nome promette orrori confermati dall'aspetto, quanto gli piacevano le pulsantiere con la pallina centrale. Una volta facevano molto Star Trek, no, peccato che non servivano a una mazza. Vedendo sta roba direte, beh, almeno come console era compatta, no? Sì, quella non è la console, è il controller e basta. La nota positiva è che i giochi erano tutti portafichissimi di videogame arcade, quella negativa era che, beh, potevano essere tutti fichissimi quanto ti pareva, tanto non saresti mai riuscito a giocarci, anche perché la pallina si rompeva, si sporcava, si incastrava i bottoni rossi ai lati, ma ma che è quella roba? Ma l'Atari, cioè, ha fatto una quantità di cose belle per quante ne ha fatte dimostruose, che è comica la cosa. E alla numero 4, il Nubi Boomerang 64, vabbè, qui andiamo sul grottesco, impugnato una volta, le mie mani ancora non si sono liberate di quella sensazione, io mi sento sporco. La cosa migliore è, ovviamente, il nome, ma non ci voleva neanche una scienza a sceglierlo, direi. Non è un controller che somiglia a un boomerang, è un boomerang al quale hanno appiccicato sopra dei pulsanti, capite la differenza? Ora, a parte che quanti mici erano sti pulsanti a destra, ma dico, ma metteci ne altri sette, io vi giuro, se non l'avete mai tenuto in mano, vederlo così potrebbe apparire ingannevolmente ergonomico, ma è un tranello dello dimonio. Fu noto per i molti problemi a polsi e gomiti causati per la posizione assurda che dovevi assumere, luciferino. E alla numero 4, il primo controller dell'Xbox. Ora, perdonate, la scatola Hickse, quando uscì, era un prodotto avveniristico, è vero, aveva tutto, giochi online, performance, Master Chief, qualunque cosa, tranne il controller. Ora, non ditemi che siete anche voi tra quelli che lo amavano, perché non è possibile. Non è possibile se sei umano. Non è possibile nel caso tu non abbia la possibilità di eiettare a comando le tue dita per farle arrivare dieci metri più in là, stondato, goffo, affaticato, con problemi di obesità e quella patacca al centro Xbox, grande come una casa. Beh, grazie, per un attimo mi ero scordato a cosa stessi, giocando è fortuna il controller, ma Xbox immenso, l'immenso così sapevi sempre chi era la causa delle tue sofferenze. E alla numero 2, l'Alpha Grip AG5. Non so dell'Alpha o dell'A o della G o del C, con 5G, ma il grip era l'unica cosa che c'era per davvero, controller multipiattaforma sotto steroidi incazzatissimo, così tanto che gli sono cresciuti addosso mille pulsanti anche indecifrabili, alcuni servono per scrivere, altri per giocare, altri per avviare i comandi di lancio di qualche missile nucleare in Nevada, i restanti per contattare Alpha Centauri. L'idea era creare un pad che potesse permettere di giocare e al contempo sostituire anche tastiere mouse. Allora, ci poteva stare, ma la realizzazione, io, ma come la commenti? Basta guardare, la curva di apprendimento per usarlo? Ma l'aveva creato la From Software, questo controller? Ma Dream Master è un dottorato e forse ci capivi qualcosa? E la numero 1, il Power Glove, il guanto del potere, il potere di sembrare un coglione. Negli anni 90, con questa bestialità della Nintendo, per non si sa bene quale ragione, le classiche pubblicità dell'epoca, no, col ragazzino che se lo infile diventa tipo Thanos, escono i raggi laser dalle dita, i fulmini, dal guanto, per poi appunto schioccare le dita e sperare che a polverizzarsi saresti stato tu travolto dalla vergogna per aver acquistato una roba simile. Dire che non funzionasse è un complimento. Non c'era quello per mancini, e io direi, per fortuna, dei mancini. La Nintendo che urlò, ne venderemo un milione, ne vendettero 10.000. E insomma, il Power Glove era lo spirito degli anni 90, ma quelli cenciosi per davvero, quelli che ci piacciono. Cioè, voi guardate il Power Glove e poi guardate il DualSense. Ne è passato di tempo, raga, vero? Che bello il progresso. Allora, la pigliamo sta PS5? Quando? L'avete già preordinata? Arriva? Non arriva? Siete tristi che tipo Demon's Souls non c'è Ray Tracing? Aaaaaah! Ben sogni! Ci mentono! E poi chi se ne frega? Cyberpunk 2077 farà caccare? Secondo me, sì! Ne riparleremo quando uscirà. E ci vediamo domani per un altro video.